Noi abbiamo adottato un piano anche sulla scorta di quanto richiesto dal commissario nazionale contro la peste suina che prevede 28.000 abbattimenti in Abruzzo. I ambiti territoriali di caccia, tutte le associazioni venatorie, oltre che le altre autorità competenti, polizia provinciale, forestali, sono impegnati in questo piano. Vigileremo perché venga messo in pratica e perché vengano rispettati gli obiettivi posti e adotteremo le misure necessarie se dovessimo verificare che non tutti fanno la loro parte e non si raggiungono gli obiettivi previsti.